Questa maglia è stata studiata appositamente per il centenario, quindi ricalca magari in chiave moderna la prima maglia storica del Foggia e ne abbiamo un documento storico grazie ad una foto che risale appunto al 1920 nella quale c'è la prima maglia. Cinque righe nere, quattro rosse, laccetti bianchi e una peccia a colori è la maglia scelta dal Foggia per celebrare i cento anni di storia rivelata nei tre giorni di celebrazioni per la festa a due zeri del club, vissuta a bordo campo senza tifosi, nel rispetto dell'enorme anticontagio e alla presenza di una bandiera storica del Foggia come Gianni Pirazzini. L'unica attesa ora è legata a capire quale sarà il destino del club rosso-nero in bilico tra Serie C e Serie D. La missione è di Davide Pelusi, amministratore delegato del Foggia e proprietario del 20% del capitale societario e fa riferimento al blocco dei ripescaggi dalla D alla C votato dall'Assemblea di Lega Pro, passaggio che penalizzerebbe il Foggia secondo al momento dello stop del campionato di Serie D a inizio marzo con un punto di ritardo sul bitonto. Difficilmente potrà essere accettato sia dalla Lega di Serie D che dalle altre leghe e quindi dalla FGC il concetto che ci debba essere il blocco dei ripescaggi e soprattutto delle retrocessioni e che quindi il campionato in qualche modo venga congelato in maniera squilibrata, ossia sia alle promozioni ma non alle retrocessioni. Se un campionato è congelato, è congelato in tutte le sue forme, sia in testa alla classifica che in coda. Dopo il no all'aumento di capitale di una settimana fa della Map Consulting, Pelusi e il presidente rosso-nero Roberto Fellica si sono detti pronti a garantire tutte le risorse necessarie per la copertura dei costi di gestione, anche attraverso modalità alternative alla ricapitalizzazione per concludere la stagione sportiva 2019-2020 e iniziare l'annata 2020-2021, a prescindere dalle variabili legate al Covid-19 e al conseguente blocco del campionato di Serie D. I numeri raccontano fino all'interruzione un torneo di vertice, 54 punti, 15 gol al passivo in 29 partite, 18 clean sheet per il portiere Ermanno Fumagalli. Pelusi crede nella C e in un passo indietro da parte del Consiglio federale. Noi ci auguriamo che ci sia spazio anche ai ripescaggi perché in questo modo le chance per noi, per il calciofoggia, che è a un punto solo dal Bitonto, di poter essere ripescati aumentano considerevolmente, soprattutto considerando che c'erano ancora otto partite da giocare e che nel girone di andata quelle otto partite ci hanno visto fare un punto in più rispetto al Bitonto.